Excelsior è l'unica rassegna di questo genere in Italia. Focalizza l'attenzione sulla pittura italiana del Tardo 800, con piccole incursioni nell'arte del primo novecento, tra avanguardie e persistenze e si pone come prestigiosa vetrina per raffinate opere d'arte. Allora, questo qui è un dipinto di Beppe Ciardi, eseguito nel 1922. Ciardi è un pittore veneziano che nasce nel 1975 e muore nel 1932. Di soggetti simili con queste dimensioni ce ne saranno, credo ne abbia fatto 10 o al massimo 15. Quindi diciamo la particolarità di questo dipinto è appunto data dalla dimensione e chiaramente dalla qualità. Questa è una cosa che consideriamo abbastanza importante per l'artista. Questa è una laguna veneziana particolarmente affascinante con questi tramonti e un'altra particolarità è questa materia grossa che lui addirittura creava degli effetti di luce mettendo una materia molto pastosa, molto importante. Questo qui è un dipinto di Luigi Nono. Luigi Nono è uno dei pittori più importanti dell'Ottocento veneziano e nazionale, addirittura oggi anche internazionale. Questo dipinto qui è stato eseguito nel 1912 su commissione per un grosso committente milanese. Del seguente dipinto esistono diversi bozzetti preparatori e poi c'è l'opera finale che è questa qui. Questo si può considerare un capolavoro della pittura dell'Ottocento di questo pittore ed è tutta la pittura in generale. Luigi Nono è un pittore che nasce nel 50 quindi più o meno un po' più vecchio di Beppe Ciardi di 20 anni. Un caposcuola insieme a Guglielmo Ciardi, Fra Giacomo, Milis, insomma questo è un pittore di una grossa importanza. Sesto quadro, a parte il soggetto che può essere particolarmente triste ma era una caratteristica del pittore, quello di fare dei soggetti tristi e abbastanza palinconici, si può considerare un capolavoro dato anche il soggetto. Ma io noto anche la lanterna che è particolarmente, cioè sembra veramente illuminato dal fuoco. È straordinaria, diciamo che tutto il dipinto è incentrato su quella lanterna che dà poi la luce, vede che addirittura ha creato anche un riflesso. Purtroppo sarebbe necessario dargli una pulita perché c'è tutta una patina di ossido del tempo. Quindi questa patina di ossido, diciamo che falsa un po' i colori. Qui sono dei verdi straordinari, dei colori che una volta puliti tirano fuori, cioè danno tutta la bellezza al quadro come era in origine. È un'opera talmente fastosa che è una scultura. Questa è una scultura, è Venezia, l'epoca è la prima metà Settecento, siamo ancora nella prima metà Settecento, in lacca, veramente è un pezzo straordinario, nel suo genere è un pezzo unico, pubblicato sulle lacche veneziane del Settecento, proprio per la rarità dell'oggetto. Frans Febblé è un pittore inizio ottocento della scuola di Posigli. Questa è la chiesa di San Giovanni a Carbonare a Napoli. Lui ha fatto due quadri e vengono dalla Casa Reale. Noi abbiamo fatto un catalogo dedicato a questo quadro a pitture, quindi è un quadro storico che ha più di circa 200 anni. Noi lo portiamo per la qualità e per la bellezza dell'opera. Grazie. Grazie.